Macerata vuole ricordare la giornata dell'Alzheimer ricordando il progetto che sta portando avanti con grande impegno, l'AFAM. A che punto è la presenza dell'assessore regionale per dare buone notizie? Mi auguro di sì, questo lo dovete chiedere a lui, non lo dovete chiedere a me, l'abbiamo invitata apposta, perché questo progetto è stato ovviamente pensato da noi, però è stato subito affiancato dalla Regione Marche, che ci ha visti appunto insieme, fianco a fianco, nella progettazione e nel portare avanti questo discorso. Noi ci auguriamo che questa sera l'assessore, se lei si ricorda in trasmissione, io ho detto che non si dovrebbero usare i condizionali, il Centro di Uno si farà, però è ovvio che non dipende dalla nostra associazione, dipende anche dalla Regione, come anche dagli altri enti che sono coinvolti e da tutti noi che lo dobbiamo volere con tutte le nostre forze. Quindi i tempi come sono? Noi ci auguriamo che nel giro di un anno e mezzo, due, possa essere una realtà per Macerata, però ripeto, non dipende da noi e se le devo dire molto francamente, io non sono tanto preoccupata per la realizzazione del centro, perché è vero che è un centro ambizioso, è vero che è un centro che è innovativo sotto molti punti di vista, non ci scordiamo, e questo tendo sempre a dirlo, che ci sono altri centri diurni e anche molto buoni nella nostra Regione, ma questo è un centro, diciamo, sul modello di quelli che esistono al Nord, che tende a dare più l'idea di una casa piuttosto che, fra virgolette, di un istituto. Quindi ogni cosa è stata studiata e preposta per gli Alzheimer, senza però dare mai l'impressione che ci sia qualcosa di scientifico o medico sotto. Grazie.